E' del Cilento la gelateria più votata sul web per il premio alla gelateria dell'anno, indetto da Gastronauta, il portale che divulga la conoscenza dei luoghi del gusto e della gastronomia italiana e il rapporto al territorio. Con più di 5.200 preferenze, la Crivella Gelati e Dessert, situata in Corso Italia, Sapri, nello splenido golfo di Policastro, è al momento infatti la gelateria prediletta in campagna in tutta Italia. Una bella notizia per il territorio a sud di Salerno e un ulteriore alto riconoscimento per il maestro gelatiere e pasticcere Enzo Crivella, noto professionista del settore, conosciuto e apprezzato ben oltre i confini del Cilento, come confermano i numeri del sondaggio nazionale a cui hanno aderito finora 40.627 persone. Crivella è famoso per le sue specialità uniche, come le sette vele al cioccolato o le sette vele al pistacchio, con base di ricotta di pecora, croccante di pistacchio, pan di spagna bagnato alla mandorla, glassa al cioccolato guanaia e pistacchio verdi di bronte. Ultima invenzione è il sorbetto di finocchio selvatico, perché, come dice Crivella, l'intento è di mettere nel cono informazione e qualità. Le votazioni per il premio alla gelateria dell'anno si chiudono venerdì 26 luglio. Per partecipare basta andare su www.gastronauta.it e su Vota la tua gelateria preferita. Nella pagina che si aprirà comparirà una cartina dell'Italia. Cliccando sulle regioni si troverà una selezione di gelaterie che si sono distinte nel panorama nazionale e che sono state inserite nella guida gelateria del gastronauta. Altre invece sono state segnalate dagli utenti. Tra tutte sarà possibile scegliere la più amata da mettere in cima alla lista. Al termine del sondaggio il gastronauta consegnerà un simbolico premio alla gelateria dell'anno durante una manifestazione che si terrà a Milano. E in attesa del verdetto finale, la gelateria Crivella organizza per domani 25 luglio una serata di musica e degustazione e dopo la mezzanotte ha assicurato patron Enzo Crivella gelato e spumante gratis per tutti.